Siamo alla vigilia della partita contro Cremona, per noi è un momento particolare della stagione, veniamo da 4 trasferte consecutive, abbiamo vinto solo a Nanzì, abbiamo perso le ultime due partite di campionato e quindi dobbiamo assolutamente tornare alla vittoria, siamo vogliosi di tornare a vincere davanti al nostro pubblico. Siamo a partita fondamentale per noi, sappiamo che sarà una partita comunque difficile perché Cremona è un'ottima squadra che ha iniziato alla grande questo campionato e quindi verranno qua sicuramente per fare il risultato. Noi però dobbiamo pensare a noi stessi, per noi è una partita fondamentale e dobbiamo cercare in tutti i modi di portare a casa il risultato ripartendo dalla difesa che è mancata nelle ultime partite, bisogna assolutamente migliorarla per tornare alla vittoria.